Sulla finestra Questo Ciao 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 Grazie di essere qui con me oggi grazie davvero oggi faccio un video dedicato un trigger che mi piace tantissimo che so che piacciono molti di voi pasticcini e so che non è così facile da trovare non tutti lo fanno non è troppo comune e sto parlando del tracing e del touching questo è il tracing e questo è il touching ma prima di cominciare voglio ringraziare Pure Lay per aver gentilmente sponsorizzato questo video in particolare oggi vi voglio parlare del loro calendario dell'avvento Pure Lay è un brand di gioielli waterproof ispirati alle Hawaii e indosso questi gioielli da un sacco di mesi quindi posso garantirvi proprio con certezza assoluta la loro qualità anche nel tempo non lasciano ad esempio le anelli non lasciano segni sulle dita non mi fanno infezione alle orecchie cosa che vi datevi è raro e resistono all'acqua le ho portate al mare tranquillamente non si sono rovinati quindi io mi ci trovo molto bene questo è il calentare dell'avvento è veramente molto carino come scatola qui ci sono 24 scatoline una per ogni giorno di dicembre e con oggi oggi andrò ad aprirne con voi sei così vi farete un'idea questo poi può diventare per me un portagioia il prezzo di questo calendario è 149 euro ma il valore complessivo di tutto questo è 700 euro quindi è veramente buona come come offerta l'anno scorso il calendario dell'avvento è dato sold out in poche ore e quindi è necessario iscriversi a una prevendita e la prevendita inizia invece il 3 settembre alle 8 di mattina e iscrivendosi alla prevendita una volta ad assicurarsi appunto un calendario e ci ci si iscrive diciamo un giveaway in cui si può vincere un calendario dell'avvento su 5 messi in valio e dovete seguire il mio link in descrizione perché attraverso quel link ottenete una password per iscrivervi alla prevendita se siete interessati a questo mi raccomando iscrivetevi alla prevendita se no probabilmente ve lo perderete quindi io vi avvisati e ora apriamo le caselle che mi hanno autorizzato ad aprire prima giusto per farvelo vedere il resto sarà una sorpresa anche per me a dicembre faccio vedere semplicemente numero 2 se sapete già che lo prendete e non volete spolervi niente saltate questa parte in cui apro delle caselle se no questa è la 2 sono degli orecchini hanno tutti questi sacchettini così numero 10 questo paio di orecchini 12 questa collana 15 questo charm che può essere messo collana orecchini bracciali quello che volete 19 che bellino queste collane con le pelle mi piacciono tantissimo e 24 24 abbiamo questa collana con questo ciondolo ed è molto lunga vedete veramente bellissima vi lascio tutte le info importanti anche nella descrizione così non vi perdete niente se siete interessanti e trovo questo calendario dell'avvento sia super interessante sia come autoregalo sia strazegato come regalo mi fidate? fidatevi bene grazie per lei per aver sponsorizzato questa parte di video e passiamo subitissimo al tracing eccoci qua eccoci qua con il cambio di inquadratura e per cominciare con il tracing poi vedrò se inserino anche un altro libro è un altro libro mi aiuto ho scelto questo libro da colorare per adulti per bimbi quello che si vuole però è stato anche proprio per adulti di pelle di fanzo è un libro appunto sulla body e positive vitti e insomma ci sono delle immagini che riguardano l'accettazione del grasso e della parola grazia delle persone grasse e insomma contro la grasso copia ma non mi voglio soffermare troppo su questo argomento in questo video però mi sento di consigliarvi tantissimo tanto comincio il tracing mi sento di consigliarvi tantissimo il loro libro di appunto Chiaramelloni ma nomi belle che si chiama sempre belle di faccio e parla appunto della grasso bio libro estremamente interessante perché mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto talmente tanto che l'ho prestato anche a due persone perché secondo me è un argomento super interessante e che ti è pienamente tanto e ti fa capire parecchi stereotipi che abbiamo non so che frase era scusate sono le 5 di mattina sto appunto registrando questo video lunedì alle 5 per oggi lo vedrete oggi alle 19.30 perché non l'ho pre-registrato e spero davvero che vi piaccia questo tracing a me questo tracker piace tantissimo io ho scelto questo libro perché era l'unico libro da colorare che ho e non so trovo che il tracing sia molto bello proprio su disegni lineari però sia questo libro che un altro libro di immagini ma colorate cominciamo ad aprirlo ringraziamenti cercherò di farlo il più lento possibile e non vedi di fare qualche touching ok proviamo anche con questo a vedere com'è come viene questo come vedete è un è un pennello però li trovo diversi questi tipi di tracing ma tutti e due molto interessanti ma andiamo avanti alle immagini un po' tipo questa è molto semplice secondo me molto adatta questa immagine questa immagine si chiama pelle si ma di faccia riferito appunto al fatto che molte volte si dice una persona grassa sei così bella di faccia cioè peccato nel senso per il corpo che se la seconda parte è sottentesa la si intende come la si intende come eccoci qua il costume la parte la parte è 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 non so, li trovo perfetti non valuto la questione artistica valuto semplicemente il pin per questo video per il fine di questo video altra immagine e questo facciamo con le dita con il dito ditemi poi nei commenti che tipo di tracing preferite se magari questo qui semplicemente col postrelli o questo un po' più preciso con l'unghia o se per caso quello col pennello questo è il mio preferito è questo un po' meno preciso però molto eccoci qua facciamo anche un po' di tracing giusto così un po' più lontano per capire quale sia il più effettivo è proprio un trigger ipnotico cosa ne pensate? cambiamo pagina andiamo avanti questo è troppo complicato come disegno guardiamo anche questo eccolo eccolo cerchiamo proprio proprio questo questo lo faremo sia col pennello che con le dita e poi voglio passare all'altro libro proprio anche per capire le preferenze o anche quando riguardano questo video per capire cosa anche a me piace piace di più allora sono guardiamo o lororororororo coderno per colorare è molto vecchio di un molto vecchio hanno almeno due anni non ho idea se sia ancora in vendita onestamente se già ve lo metto come vi metto anche l'indappigliato di Amazon perchè proviamo a metterlo per questo eccoci qua eccoci qua facciamo uno zoom questo è un video molto tecnico molto preciso non ne faccio troppi di video così però ogni tanto non so se vi piacciono anche questa cosa proviamo io provo tutto eccoci qua io ho una scuola eccoci qua è super molto dura eccoci qua faccio l'ultimo tracing su una scritta selfie punto esclamativo facciamo anche col pennello no questo secondo me non è bello guardito selfie ok eccoci qua adesso passiamo un attimo al secondo libro allora questo libro mi è stato regalato da Mondadori un sacco di tempo fa poco dopo che ero uscito il mio libro quindi 2018 inizio 2020 e è un libro della sezione contemporanea non so come si definisca comunque è un libro solo con immagini è un graphic novel come vedete è molto diverso è molto diverso dall'altro può essere interessante anche questo questo per cambiare è bellissimo questo libro eccoci qua eccoci qua una mamma una mamma con un bimbo in spalla la strada e una macchina e una macchina un po' vecchionta eccoci qua cerchiamo cerchiamo un'altra immagine qui c'è una cameretta qui c'è una cameretta la lettiera no di che cavolo di la cazzo di l'aringhiera cioè la lettiera adesso quella dei gatti è proprio fuori di dentro le dente sulla finestra la fine del muro inizia il poimento e poi abbiamo la cassettiera proviamo un po' così a definire a definire un pochino di contorni anche sulle tendine proviamo con l'ultima immagine ma non però è anche questo però mi piace più l'altra parte le ruote della bici questo qua questo qua è un po' è un pochino e poi la montagna la strada dall'altra parte dall'altra parte abbiamo ancora la strada si è un pochino si è un pochino si è un pochino che sta mangiando l'erbo secco è un pochino così pieno abbiamo un lampione e poi tutta la vegetazione e poi tutta la vegetazione ancora io spero davvero io spero davvero questo video vi sia piaciuto che vi abbia rilassato vi abbia un po' ipnotizzato incantato mi rimango su questa immagine bella buonanotte che intema e penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si è aggiunta l'ora abbassare le luci e augurarvi augurare augurare a te mio pasticcino mia pasticcina bellissima l'ora super sweet dreams buenas no just dulce sueños buon nuit buon nuit vete show your help buon nuit buon nuit buon nuit buon nuit pasticcini miei tortini al cioccolato un bacio che li spera